Noi continuiamo a ragionare come se fossimo i padroni del mondo e in particolare noi europei continuiamo a ragionare come se noi fossimo il centro del mondo, il che mi fa un po' ridere. Il libro spiega proprio questo, non siamo più il centro del mondo, signori che ci state ascoltando, non siamo più il centro del mondo e non possiamo dettare al resto del mondo le nostre regole. Dobbiamo metterci intorno a un tavolo e decidere come consumiamo le risorse disponibili che tra l'altro si stanno riducendo a grande velocità e fra una generazione noi non avremo più l'energia che abbiamo oggi e quindi dovremo comunque metterci d'accordo per dividere quello che c'è, se no c'è la guerra. E purtroppo l'Occidente che è il più armato di tutti continua a dire che noi domineremo e quindi vuol dire che stiamo preparando.